Allora, l'origine di Everything is OK, c'era una domanda, una questione che volutamente mi ponevo in maniera ingenua e che desideravo anche porre al pubblico di quel lavoro. La domanda era, quando è che tutto quello che vedi ti sarà sufficiente e quando raggiungerai la sazietà nello sguardo che cos'altro desidererai vedere sulla scena? E subito si sono, diciamo, nel processo di ricerca stagliati contro il fondo due libri. Uno è La società della stanchezza di Bündchul Han, che è un filosofo di adozione tedesca nel quale lui crea un ponte tra una serie di ricerche neuroscientifiche condotte negli ultimi trent'anni che hanno dato il fondamento a una cosa che in realtà nel senso comune appartiene più o meno a tutti, ovvero l'idea che sia necessario oziare perché qualcosa di nuovo arrivi e occorra alla mente. Una serie di analisi hanno evidenziato il fatto che le persone in periodo di inattività, ma durante lo stato di veglia, quindi non in presenza di un task preciso da svolgere, una rete del loro cervello che si chiama rete neurale di default si attiva in maniera incredibile. Ed è la funzione del cervello atta alla creazione delle memorie, alla formazione di un'autocoscienza emotiva, alla creatività stessa. In questo libro la cosa eccezionale che fa Bündchul Han è che restituisce dignità alla stanchezza come dimensione dell'esistere e lo fa inserendo la sua analisi all'interno di una critica molto ampia rispetto al mondo del lavoro degli ultimi venti, trent'anni. È un mondo del lavoro nel quale siamo molto spesso noi in prima persona i padroni di noi stessi, noi che dobbiamo dettare i tempi e i ritmi che scandiscono la nostra vita e però questo non ci rende meno liberi, anzi ci pone di fronte alla difficoltà di concederci dei momenti di stanchezza, di ozio. Il gemello in questo percorso di questo volume era un volume di Peter Han, lo scrittore austriaco che si chiama Saggio sulla stanchezza credo, che è una specie di lunga elegia in prosa nel quale lui evoca tutti i momenti della sua vita in cui si è trovato in presenza di una collettività di persone stanche o quando lui stesso era stanco. E racconta in maniera molto efficace come nei momenti di stanchezza lo sguardo diventa più soffice, più soffice, si appoggia sulle cose del mondo in maniera diversa e lui usa questa espressione, dice nei momenti di stanchezza quando guardi il mondo sono le cose che vengono verso di te e non è il tuo sguardo che va verso le cose del mondo. Quindi Everything is ok per me doveva essere, ed è in realtà ogni volta che viene replicato un esperimento su quel campione specifico di pubblico che c'è quella sera, naturalmente l'esperimento non viene dichiarato, cioè allo spettatore non passa mai l'informazione che in effetti quella che io sto facendo e conducendo è un test su di loro. Il compito del test è capire, e questo avviene in maniera diversa nella percezione e nella fruizione di ogni singolo spettatore, quando è il limite oltre il quale qualcuno è stanco di vedere di fronte ai suoi occhi questa catena ininterrotta di movimenti che io compio, tutti tratti dal mondo dell'intrattenimento dall'inizio del Novecento a oggi e che quindi strizzano l'occhio a qualcosa che dovrebbe essere seduttivo e seducente per sua natura, ma che per il fatto che è decontestualizzato e per il fatto di trovarsi vicino a materiali molto distanti tra loro e soprattutto per la fragilità con cui io credo di portare fuori il materiale, il movimento, i segni, necessariamente pongono chi lo guarda nella condizione di chiedersi se è davvero quello di cui ha bisogno e quando ha bisogno invece di vedere altro. Io mi auguro sempre che lo spettatore alla fine evochi qualcosa di invisibile attorno al mio corpo, che prescinda dal mio corpo e che però faccia parte comunque della sua esperienza di visione. Diciamo che in Avalanche sia nel processo di lavoro che poi credo nel lavoro in sé, tutto quello che è più intimamente connesso alla mia vita è nascosto, è tradotto e trasformato di continuo. Intendo dire appunto questa cosa a cui tu ti riferisci, cioè il fatto che sono stato un ragazzino e un bambino molto nostalgico, ossessivo compulsivo nel collezionare le cose e nell'imparare a memoria le cose. Io sono cresciuto mandando a memoria elenchi, liste di cose e questa si è trasformata poi quando mi sono avvicinato ai temi che Avalanche portava con sé in uno studio rispetto alla questione dell'archivio, cosa significa archiviare, perché lo si fa e qual è l'impulso sotteso alla necessità di archiviare, che è una delle necessità dell'essere umano, questo va detto, da sempre tra l'altro, da prima che l'archivio esistesse davvero. Poi Avalanche ha una grande ambizione che è quella di provare a far fare allo spettatore l'esperienza di una temporalità un po' più dilatata di quella della nostra vita, quindi io e Teresa Silva che è la danzatrice in scena con me ci siamo proprio rivolti in maniera ambiziosa e consapevole dell'impossibilità assoluta di questa distruzione, ci siamo rivolti alla possibilità di far vivere un tempo geologico, quindi a volte pensavamo a noi stessi e pensiamo tuttora a noi stessi quando facciamo delle cose in scena come a dei ciclopi che camminano e osservano la storia del mondo dall'alto, perché mi interessa che nel tempo della performance anche se accade per pochi secondi ma che chi guarda possa sentire, possa accordarsi per un momento con il respiro di un tempo che trascende la vita di un essere umano, che trascende i 70-80 anni della vita di un essere umano sano occidentale. Non so se ho risposto alla tua domanda, diciamo che sotterranea scorre sempre qualcosa di legato a me, ovvero appunto quest'idea che il passato è una cosa che nessuno ci può togliere e che quindi è il mezzo che mi ha a disposizione, che mi ha più connaturato e più familiare per andare verso il futuro. Uno sguardo sempre rivolto al passato e il tentativo di collezionare più cose possibili della mia vita non nel senso di oggetti materiali, nel senso di eventi, di cose che sono accadute, di frasi che sono state dette e in questo modo poi creare una forma di un possibile percorso verso il futuro, direi, ecco. Allora, è una questione estremamente complessa, soprattutto perché potrebbe avere diversi accessi. In questo momento non saprei quale scegliere, nel senso che c'è una possibilità di guardare a questo discorso complessissimo pensando a quello che la filosofia ci ha detto, ovvero che l'estetica contiene in sé l'etica, non solo nella parola e quindi l'arte sicuramente pone una questione di natura estetica e dunque politica e viceversa per lo stesso fatto di esistere. Quindi l'idea che gli esseri umani, e questo ha sempre più valore oggi credo, che gli esseri umani a un certo punto abbiano deciso di occuparsi di una cosa che non era direttamente utile. Questo lo dico a prescindere dall'origine rituale della danza e del teatro, nel senso che non mi interessa l'aspetto antropologico perché oramai è così trasformato che possiamo parlare di un oggetto diverso, di valore diverso per la cultura. E quindi sicuramente già in questo c'è il seme di qualcosa che per me è morale, è estremamente morale, questo al di là della necessità eccetera. Poi la tua domanda in realtà riguarda molto il pubblico e questo pone tutta una serie di questioni complesse anche e soprattutto in virtù del momento che stiamo vivendo. per me da un po' di anni è molto difficile accettare di fare questo mestiere in questo mondo e in questo momento, nel senso che è forse la prima volta della mia vita, non so se per età o perché effettivamente c'è una congiuntura particolarmente violenta di fatti, credo sia importante chiedersi per chi lo facciamo e perché lo facciamo e chiedercelo continuamente. Poi devo dire che il fatto che io mi muova nel mondo della danza, qualsiasi cosa questo voglia dire sappiamo che ci stiamo muovendo in un universo che per fortuna sta riscardinando come era in origine i confini tra le categorie e quindi finalmente secondo me tra qualche decina di anni ricominceremo a definire il teatro semplicemente come il luogo o l'esperienza in cui qualcosa avviene e non distingueremo più tra i linguaggi che in esso vengono utilizzati. La danza mette immediatamente in campo la questione della postura e non sono io a dirlo, sono anche in questo caso grandi pensatori e coreografi con più esperienza di me a dire che la postura con la quale ci relazioniamo alle cose del mondo, con la quale ci mettiamo nel mondo ogni giorno e il modo in cui guardiamo e ci relazioniamo alle posture degli altri sia in teatro che fuori è immediatamente un fatto politico perché ogni corpo viene investito di aspettative e significati sempre continuamente e la danza è anche questo, la danza può essere un processo con cui si investisce di significati un corpo con cui invece si cerca disperatamente di togliere i significati ma di questo sempre stiamo parlando, cioè come uno sguardo si appoggia su un corpo di qualsiasi natura sia quello sguardo. Quindi in questo momento in cui i corpi hanno una grandissima... hanno molta visibilità, l'hanno anche in maniera violenta o castrata è fondamentale che ci sia qualcuno che dedica del tempo della propria vita all'osservazione di questi processi. Quindi in questo senso credo di aver risposto in parte... Lavinia, Steffi, Lavinia, George, Acavalo, Andrea, Andrew, Matthew, Kevin.